Ciao a tutti! Oggi compio XX anni e voglio festeggiare il mio compleanno con tutti gli amici di YouTube. Parte come un razzo! Yeee! Buon compleanno! Simona! Nei commenti voglio leggere tutti i vostri auguri per il mio compleanno. Io sono una persona che ci tiene a festeggiare il suo compleanno e quest'anno lo festeggiamo tutti insieme. Sono felicissima! Ogni giorno ricevo dei bellissimi regali da voi. Da voi che mi scrivete tantissimi commenti, che mi ringraziate e oggi sono io che vi ringrazio perché mi scaldate il cuore, mi date tanta gioia e tanta soddisfazione ed è bello condividere. Quindi un grazie di cuore ancora a tutti voi, un buon compleanno a me oggi per i miei XX anni. Provate a indovinare quanti anni compio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!